passiamo a questo punto all'ultimo speech di oggi l'ultimo speech del forum un onore veramente pazzesco che spetta a Giancarlo Ceropolini Head of Customer Experience Insurance Accounting Unit di Exprevia e Andrea Zino, Data Vangeli Spartac sempre di Exprevia vogliamo concludere questa sessione abbiamo raccontato alcune esperienze molto interessanti alcuni percorsi di crescita parliamo adesso di data strategy quindi come possiamo definire una data strategy per essere leader nel digital banking a voi Sì, ok, vi ringrazio ti ringrazio dell'assist e ringrazio anche i partecipanti che sono riusciti a connettere nonostante qualche bizze del sistema diciamo questo che facciamo una premessa anche se devo dire che tante cose sono state già dette sia da te che da Vellella anticipatamente e anche dal collega di Oracle che adesso magari li ricentite magari ma che vorrei in qualche modo sintetizzare diciamo che i dati rappresentano una sicurezza informativa una sicurezza e un asset aziendale molto importante diciamo che la ricchezza informativa che oggi è in azienda è molto aumentata dovuta anche e soprattutto ai volumi delle informazioni che pervengono basta pensare a quello che oggi avviene nelle compagnie assicurative per esempio con l'IoT o con altre tecnologie che diventano in pratica informazioni di un certo tipo magari non strutturate che però danno qualche tipo di senso di essere interpretate da poterli leggere per interpretare in maniera adeguata i comportamenti e quindi alternativamente la proposta di soluzioni e servizi verso la clientela diciamo che quindi stiamo parlando di un mondo che aumenta che spinge notevolmente per creare quindi quei framework e quelle soluzioni tecnologiche che devono consentire proprio una lettura e un'interpretazione di questi dati quindi per consentire poi all'azienda un passaggio verso il cosiddetto data-driven o data-driven company o in questo caso data-driven banking diciamo che il data strategy o la data governance in particolare secondo noi rappresentano proprio come posso dire un percorso di miglioramento di queste fasi che partono dalla collection dei dati e la selezione di questi dati ovunque essi si trovano nel sistema informativo all'archiviazione con l'integrazione successiva di queste informazioni che devono in qualche modo essere messe a fattore comune come espressione dell'univocità del dato all'interno del mondo dell'azienda in questo caso della banca la distribution di questi dati e la governance opportuna ecco sicuramente non esiste solo un'unica tecnologia come hai detto già tu precedentemente esistono diverse tecnologie che possono fare il meglio per ognuna di queste fasi l'importante comunque è tenere sempre conto di questo bel percorso che consolida questo tipo di processo io faccio un po' mente locale agli anni d'ora in cui seguivo anche la parte industriale tanti anni fa parliamo dell'87 Toyota diciamo la parte del quality management era proprio questo la catena del valore era data da ogni singolo anello e la qualità era data anche dall'ultimo anello della catena qui la stessa cosa data strategy è un percorso che va perfettamente migliorato in ognuna di queste fasi che abbiamo più o meno rapidamente citato e che vanno messi a fattore comune mi premo adesso sottolineare soltanto il cosa consente di fare la data strategy consente fondamentalmente di rimanere molto competitivi sul mercato per valutare i propri prodotti servizi come sono recepiti focalizzarsi fortemente sulla clientela che a questo punto veramente serve ascoltare serve ascoltare per capire le aspettative soddisfarle e anticipare i bisogni ovviamente importante anche per individuare nuove opportunità di mercato o anche quelle perse opportunamente perché queste ci inducono a pensare anche alla strutturazione dei nuovi prodotti per fare match con le esigenze altro aspetto importante è diventare molto più agili nell'ambito proprio della struttura del flore decisionale interno aziendale ecco un altro tema data driven company o data driven banking che cos'è fondamentalmente dal nostro punto di vista è un'azienda che fondamentalmente basa il suo concetto competitivo su un'ottica l'avete già detto voi precedentemente ormai lo si dice in tante sessioni è customer centrica ovvero sia la customer satisfaction è l'elemento principale di questo tipo di business ecco la customer satisfaction deve essere quello che pilota diciamo tutta la parte diciamo strategica dell'azienda e l'azienda deve basare la sua forza proprio nella interpretazione dei dati che provengono dalle relazioni che ci sono all'interno dei sistemi eterogenei aziendalmente messi a fattore comune possibilmente in un ecosistema e poi ne parliamo successivamente ma soprattutto per poterli interpretare non solo nei dati a sé stanti ma anche nei dati in relazione con le altre informazioni perché non è soltanto il dato statistico quello che ci interessa ma il dato con le altre relazioni delle altre informazioni se mi passate alla slide successiva diciamo che da questa parte diciamo che gli elementi alcuni settori di mercato a livello mondiale avete visto alcuni brand da Spotify America eccetera che nel diciamo che nel loro percorso hanno già fatto questo tipo di passaggio l'hanno già migliorato e sono già stati poi i leader nel loro segmento a me io vorrei soltanto dire questo che noi siamo ancora un po' indietro da questo punto di vista basta osservare le statistiche che ogni anno il Politecnico emana dal punto di vista del data strategy e della parte diciamo di business analytics e della business intelligence soltanto l'8% delle aziende ovviamente di vari segmenti oggi hanno questo tipo di consapevolezza quindi soltanto il 26% sta iniziando ora quindi diciamo che siamo ancora un pochettino indietro e c'è molto da lavorare da questo punto di vista per ragionare su questa slide vengo rapidamente perché ci serve per introdurre il success case che abbiamo già messo a terra da tanto tempo da tanto tempo in termini informatici parliamo di 4-5 anni ma proprio diciamo ancora prima ancora che si parlasse di tematiche di data governance o di data strategy diciamo che i dati aziendali sono un po' tutti allocati e grappati alle singole applicazioni e ovviamente sono sempre di proprietà dei business owner e in particolare o dei data owner che dire si voglia ecco quindi sono creati questi silos l'importante per noi è che questo concetto purtroppo definisce quello che è l'eterogeneità dei dati però ci deve essere nel nostro concetto un po' una visione condivisa di questi dati vederlo un po' come un ecosistema virtuale di dati che in qualche misura riesce senza dover ricreare nuovamente sistemi ancora di overhead come i data warehouse o i data lake stessi diciamo creare questo ecosistema virtuale con cui come il cubo Kubrick io lo vedo come un punto di entrata unico con cui ogni business owner può accedere e nel suo modalità d'accesso automaticamente gli viene garantito quella che è la rilevanza dei dati del suo contesto e quindi diciamo così che il customer service vedrà semplicemente i dati in tempo reale del mood del suo cliente e o i ticket che in questo momento non sono soddisfatti e qual è il suo desiderata ancora prima anticipandolo e quello dei rischi vedrà valutare il singolo cliente dal punto di vista dei rischi che ha sotteso con gli istituti di credito con le carte di credito o quant'altro eccetera eccetera quindi diciamo che tutto questo mondo però viene visto come un ecosistema virtuale unico e con una visione diciamo così con un contesto di dati rilevanti per ogni business owner in funzione del contesto se mi gira la slide arriviamo a questo punto allo use case diciamo che io non lo seguirò pedestramente vi racconterò molto brevemente cosa abbiamo fatto diciamo qualche anno fa diciamo che è il caso che presentiamo diciamo che testimonia proprio la necessità sia della componente tecnologica della componente organizzativa legata al processo di questo miglioramento di data strategy ma che poi alla fine ancora parliamo ancora di problematiche di condivisione di informazioni diciamo che parliamo di un large banking adesso non faccio nomi di brand perché non siamo ancora autorizzati però diciamo un large banking che ha diversi branch in Italia e diverse in altri countries europee diciamo parliamo di qualche milione diciamo una sessantina di milioni di clienti totali tra prospect e attivi nell'ambito del retail parliamo anche di diversi migliaia di decine di migliaia di chiamate giornaliere customer service quindi diciamo che è una banca piuttosto movimentata da questo punto di vista diciamo che i sintomi che abbiamo analizzato quando siamo stati a parlare con il responsabile dei stimi formativi prima e del business subito dopo è stata la chiara mancanza di una visione unica del dato fondamentalmente che generava poi conflitti tra branch customer service e direzione centrale tempi molto lunghi nell'area risposta alla clientela sia nelle branch che nel contact center mancanza molto spesso di dati pertinenti nel contesto specifico quindi ogni area funzionale non era in grado di distillare le informazioni rilevanti con una ovviamente con una scarsa flessibilità e anche della seguente proposta che poteva essere fatta sia nell'ambito del next best action e nel next best product ecco il progetto aveva quindi l'obiettivo di fare che cosa diciamo di curare questi sintomi senza creare altri orpelli posso dire aggiuntivi quindi altri repository migliorando quello che era ovviamente l'attività del customer service sia in termini di chiamate sia in termini di qualità delle risposte delle filiali che dovevano avere lo stesso punto di vista del customer service essendo sempre parliamo sempre di una multicanalità e ovviamente per quanto possibile con un time market molto ridotto bene abbiamo affrontato questo progetto non vi descrivo gli elementi tecchi ma molto succintamente diciamo che un progetto che ci ha visto insieme con i vari process owner quindi dall'IT all'organizzazione al business all'operation quindi anche quello che diceva prima Zoni in termini di mindset aziendale la condivisione dei dati ovviamente alle varie aree funzionali è correttamente è partito diciamo col piede giusto quindi con una condivisione di tutti i contributi e quindi definizione di quelli che sono gli obiettivi di business e delle priorità successivamente abbiamo identificato con loro i giocimenti informativi eterogenei coinvolti nel processo abbiamo creato andandogli a famose taggatura e relazionarli i famosi metadati da cui abbiamo potuto a questo punto attingere per quanto riguarda gli aspetti più dopo di presentation senza ovviamente fare spostamenti di dati rilasciando i giocimenti informativi laddove ubicati senza creare altri 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 depositi successivamente a questo punto si è calato sopra un livello semantico che consente a questo punto di ricercare dati puntualmente rilevanti in quel contesto e a questo punto presentarli e condividerli con i vari business user utilizzatori di queste informazioni bene ovviamente a tutto questo è stato applicato un governo di un controllo del processo abbastanza proceduralizzato abbastanza rigido tutto questo tipo di concetto che poi alla fine in un termine solo è un data virtualization layer giusto per dare un nome a delle cose che oggi cominciano a facciarsi sulla realtà e con gli obiettivi che abbiamo raggiunto devo dire che è stato un po' un progetto abbastanza di rilievo anche perché è stato realizzato in tre mesi di tempo andando ad attingere a qualcosa come poco meno di 30 sistemi legacy ovviamente i sistemi legacy bancari parliamo di sistemi di ticketing di crm di gestione delle carte conti correnti anagrafe ovviamente chi lavora in temi di bancari conosce benissimo e ovviamente tre mesi di tempo per fare questo procedimento e quindi voglio dire è stato un progetto da questo punto di vista di successo abbiamo ottenuto quindi come risultanze profilatura di dati con una certa rilevanza per ogni contesto miglioramento dei tempi di risposta abbiamo misurato i tempi di risposta poi lo vedete anche nel quadrante in fondo che avrà la pazienza di leggere ma voglio dire di un risparmio di un 30-40% sui tempi di risposta del customer service ma analogamente pareteticamente di che opera la filiale miglioramento della produttività verso la clientela miglioramento della customer experience e soprattutto adeguatezza delle proposte successive best action eccetera e non da ultimo due ultimi elementi customer satisfaction che è stata la prima ad essere quantomeno presa a campione in termini di misurazione che ha raggiunto il 98% e ultimo ma non ultimo la consapevolezza che in questo percorso l'istituto ha preso in termini di strategia necessaria sui dati il cambio famoso del mindset aziendale e quindi tutti gli attori coinvolti dovevano condividere la stessa informazione e lo stesso dato e ovviamente quello di avere delle tecnologie abilitative che consentivano oltre che recuperare le informazioni come abbiamo descritto anche una grande governance sul sistema stesso ora parliamo di virtualizzazione dei dati parliamo di un processo che diciamo che da qualche anno e ormai si sta facendo sul mercato e di cui il collega Andrea Zino che è un evangelist come almeno che opera in ambito di denodo saprà in grado ora nel seguito magari di dare ampia spiegazione rispetto alla mia che è sicuramente molto meno tecnica che proprio spero che abbia un po' quanto meno dato qualche risposta in termini di tema proposto grazie Marco grazie 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 per l'introduzione sono Andrea Zinno oggi volevo un po' come dire completare tutto il cammino che è stato fatto fino adesso quindi stiamo parlando di una data driven bank e ovviamente quindi stiamo mettendo al centro i dati e quello che noi riteniamo è che questa evoluzione questa maggiore centralità del dato richieda anche un nuovo modo di rendere disponibili i dati a chi poi ne deve far uso quale che sia l'uso siamo in un mondo che si muove sempre più velocemente e noi questo mondo come dire non possiamo lasciarcelo sfuggire quindi dobbiamo essere in grado di rappresentarlo cosa che facciamo attraverso i dati con dei modi nuovi che siano che siano essenzialmente più agili più veloci quindi se potete mettere la prima slide l'idea quindi è quella di fare un paragone con il mondo fisico in un mondo digitale in fondo i dati rappresentano gli occhi con il quale un'azienda una banca in questo caso lo osserva e allora come quando noi osserviamo immaginiamo di stare sul fronte di una sul ciglio di una vallata vogliamo in qualche modo godere e apprezzare ciò che stiamo vedendo e allora abbiamo dei compiti che dobbiamo assolvere vogliamo che i nostri occhi quindi i nostri dati siano in grado ad esempio di cogliere la vista panoramica ma anche di analizzare i dettagli dobbiamo essere veloci nel muovere lo sguardo perché come dicevo la velocità è tale che certi dati non solo si rischia di perderli ma spesso si può rischiare di coglierli quando quello che hanno rappresentato è già passato tutto il tema legato alla freschezza del dato io sì ho una visione completa del mio cliente ma questa visione completa a quando si riferisce delle volte il fatto che magari si riferisca solo a un giorno prima può fare la differenza sul livello di servizio che io che io voglio dare che io posso dare pensate quante volte credo è capitato forse a chiunque di fare entrare in contatto provare a entrare in contatto con qualcuno su un certo canale di comunicazione ad esempio messenger sulla pagina facebook non avere risposta immediata chiamare il contact center e scoprire che la persona del contact center non sa nulla non sapeva nulla di quello che io ho fatto magari 20 minuti prima da un'altra parte e allora gli rispiego tutto magari viene aperta una richiesta di servizio poi dopo un po' ho arrivato su facebook e mi accorgo che finalmente qualcuno ha letto la mia richiesta e guarda caso ha riaperto anche lui la stessa richiesta di servizio quindi come dire non basta vedere ciò che accade ma è importante vedere ciò che accade nel momento con cui accade un altro aspetto importante l'abbiamo toccato è stato affrontato anche nella testimonianza di creden per esempio l'importanza del significato cioè noi dobbiamo renderci conto che è fondamentale poter distinguere nel momento in cui si lavora con i dati il significato del dato la loro rappresentazione dalle occorrenze vere e proprie del dato c'è un momento in cui io inizio ad avere esigenza di un dato in cui la prima cosa che mi chiedo è ma ci sono i dati disponibili per fare ciò che io vorrei fare questi dati disponibili sono esattamente nella forma in cui voglio o in realtà sono dei mattoncini che io devo comunque comporre perché ho necessità di rappresentazioni più complesse e più articolate tutte queste attività per essere fatte non necessitano di avere effettivamente i dati sotto mano pensate a quando andate o quando andate o quando si andava in una biblioteca si andava con un'idea un caso d'uso oggi si direbbe uno use case e la prima cosa che si faceva non è che si andava fra gli scaffali tirando giù tutti i libri si prendeva il catalogo della biblioteca e si vedeva se quella biblioteca aveva delle pubblicazioni che erano pertinenti a ciò che io devo fare normalmente si scopriva che non c'era una sola pubblicazione che faceva a caso mio ma ce ne erano più di una e che io devo comporre contenuti da uno all'altro beh il mondo dei dati è questo il mondo della modellazione del dato è questo io quando ho un'esigenza devo capire se nella mia azienda il patrimonio informativo soddisfa le mie richieste se non le soddisfa devo esserci qualcuno che posso essere io stesso o qualcun altro che mi combina i dati disponibili quindi questo è un altro aspetto estremamente importante ovviamente devo avere poi ragionevolmente un punto unico di accesso non posso perdere tempo a muovermi fra tutti i sistemi presenti nella mia azienda per scoprire quello che c'è perché questo fa perdere tempo questa gestione separata di diversi mondi di dati spesso si parla di silos di dati si usa un'immagine molto evocativa che è quella di abbattere i silos perché così i dati sono a disposizione di tutti personalmente riteniamo che questa sia come dire sapete la battuta buttare l'acqua sporca con tutto il bambino non ha senso il silos ha un ruolo di protezione quindi qui il risultato è connettere i silos aziendali fare in modo che il dato rimanga sotto il controllo di chi ne ha la proprietà perché devono essere rispettate delle regole molto importanti di sicurezza di privacy normative interne regole che ci vengono dalla legislazione e così via ma questo non può precludere la messa a disposizione del dato e allora perché qui la data virtualization è importante perché l'essenza della data virtualization è quella di integrare i dati senza obbligare a copiarli o a replicarli per il solo fine di metterli a disposizione che non vuol dire che sia vietato copiare i dati ma quello che è l'aspetto fondamentale è che io non debba copiarli o replicarli solamente perché qualcuno li vuole mettere li vuole usare magari integrandoli fra di loro quindi l'idea qual è che c'è una fase che noi chiamiamo fase logica in cui il dato viene esplorato modellato per rispettare le esigenze dei consumatori dei dati e poi c'è un momento che è il momento fisico in cui il dato viene effettivamente deliberato che è un bruttissimo termine a chi l'ha richiesto tutta questa cosa deve essere facile da usare deve essere veloce deve essere agile idealmente deve richiedere poche competenze di information technology oggi perché un altro aspetto molto legato al concetto di data driven company lo sapete meglio di me quello del self service cioè di abilitare i consumatori dei dati a usare i dati senza dover necessariamente chiedere il supporto di strutture tecniche che così magari si possono dedicare a compiti a maggior valore quindi alla fine la data virtualization è un po' questo l'essenza di essere una piattaforma molto agile molto veloce per portare i dati a chi ne ha bisogno cercando di muovere i dati il minor numero di volte possibili perché ricordiamoci che ogni volta che un dato viene copiato di fatto si crea un punto potenzialmente a rischio per la sicurezza no? perché è un po' la metafora della catena che è tanto forte quanto il suo anello più debole se tutte queste copie dei dati che io faccio magari a soli a soli fini tecnici non hanno tutto lo stesso livello di sicurezza beh sto creando potenzialmente un punto di rischio se mettiamo una seconda slide quindi alla fine perché si può sintetizzare e perché noi suggeriamo che la data virtualization è un modo moderno di fare integrazione dei dati beh uno ovviamente l'abbiamo già detto mille volte se il mondo si muove veloce anche le decisioni che un'azienda o una banca deve prendere per cooperare e confrontarsi col mondo efficacemente devono essere sempre più rapide spesso sono estemporane è come dire è utopico pensare che io oggi riesca a prevedere di quali dati avrò bisogno anche in un futuro molto prossimo perché il mondo cambia ci sono dei fenomeni così repentini che tutto il mio modello dati che ho fatto oggi può non essere più adatto magari non totalmente a ciò che succede fra qualche mese qualche anno e allora vedete devo avere un modo di come dire gestire questa modellazione qualcuno una volta usava il termine ontologia oggi si è usato business glossary data dictionary è vero è fondamentale avere una descrizione perché la consapevolezza dell'informazione è tanto importante quanto l'informazione stessa non basta l'esistenza di un dato affinché il dato sia effettivamente utilizzabile noi creiamo che bisogna fare forse un passetto in più rispetto a un catalogo che sia esclusivamente descrittivo a noi ci piace parlare di catalogo attivo che è quello che poi viene offerto nelle soluzioni data virtualizzazione cioè un catalogo che abbia sia un compito descrittivo quindi di rappresentare ciò che è disponibile di renderne evidente il significato ma anche di connettere queste entità logiche a quelle sorgenti dati dove effettivamente sono presenti i dati che concorrono a comporre questa vista ad esempio tipico il cliente è un costrutto molto complesso che in qualsiasi azienda si alimenta di dati che vengono da tantissimi sistemi diversi customer care marketing e così via quindi è importante che io possa rappresentare la complessità la complessità del cliente ma debba poi essere in grado di andare a prendere i dati il livello di virtualizzazione mi consente di assorbire questi cambiamenti tecnologici perché separo i due mondi quindi mi metto come livello intermedio e ovviamente se ho un punto unico di accesso tutti i temi della governance sono molto più facilmente gestibili perché io posso volgere lo sguardo in un unico punto e scoprire tutto ciò che è successo io mi fermerei qui mi rendo conto come dire che trasmettervi l'essenza della data virtualization in due slide è un po' ambizioso però spero qualche spunto di avervelo dato grazie grazie mille l'altro molto interessante tra l'altro è un trend che sta emergendo su cui stiamo rilevando crescente attenzione e almeno dal mio punto di vista è stato molto interessante comprendere come effettivamente sia già stato realizzato sia già un tema su cui dei risultati sono già stati ottenuti con benefici sia in termini di efficienza che in termini di qualità per il business siamo abbastanza lunghi ma vi faccio una domanda per una domanda su cui vi chiedo veramente di essere abbastanza sintetici perché era un tema che ci eravamo segnati che riguarda abbiamo parlato di data virtualization come si concilia l'approccio di data virtualization rispetto a un approccio verso il cloud e quali sono i benefici che avete riscontrato vai rispondo sui benefici perché qui è molto importante allora come ho detto prima uno dell'essenza della data virtualization è l'agilità la facilità d'uso noi abbiamo riscontrato noi i nostri clienti soprattutto in ambito bancario hanno riscontrato veramente degli abbattimenti di tempo significativi in certi casi si è passati da giorni per predisporre nuovi dati quindi per comporre nuovi dati con quell'approccio building block che poi alla fine è quello dei Lego per rendere disponibili che prima richiedevano giorni con approcci tradizionali a poche ore un caso che ci ha particolarmente colpito molto recente quindi in tempo a me covid nel mondo americano è stata fatta una legge che tutelava essenzialmente le piccole e medie imprese che avevano esposizioni verso le banche e quindi è uscita una legge che permetteva a queste persone di fare una richiesta una di queste banche che aveva stimato un certo numero di richieste che sarebbero arrivate nell'unità di tempo invece ha scoperto che ne sono arrivate circa un ordine di grandezza di più in un'unità di tempo più bassa la conclusione è stata che l'applicazione che allora avevano predisposto si è completamente come dire fermata sono riusciti in 24 ore ma 24 ore reali a sviluppare una nuova applicazione che integrasse tutti i dati necessari da mostrare al cliente che quindi poi li valorizzava la classica form web per capirci utilizzando proprio la data virtualization quindi sono riusciti a connettersi così velocemente con tutte le sorgenti dati interessati da rilasciare in un giorno un'applicazione che è stata grado di gestire questo enorme flusso di richieste direi che questo è un esempio come dire cristallino del fatto che poi anche in pratica questo approccio paga sul cloud non so se vuoi rispondere te no vai pure Andrea guarda allora sul tema del cloud allora sappiamo ormai che il concetto del cloud è stato sdoganato sono nute meno tutte quelle remore iniziali dovuti a tantissimi fattori il cloud in realtà diciamo da una parte no aggiunge grandissime potenzialità dall'altro come dire evidenzia se non ben gestiti ulteriori problemi nel momento in cui il dato non sta più in casa mia un premise come si usa dire ma inizia a distribuirsi geograficamente sulla rete beh iniziano a essere tutti quei problemi che già erano in piccolo presenti nel momento in cui io stavo in un solo posto potete immaginare quando tendenzialmente possono crescere in gravità nel momento che io mi estendo quindi qui ancora di più è importante avere un livello che mi faccia da separazione fra chi utilizza il dato che non è ovviamente assolutamente interessato a dove il dato sta se a me serve il dato del cliente il fatto che il cliente sia rappresentato in casa su un cloud di un provider piuttosto che un altro è assolutamente irrilevante quindi è importante che ci sia un livello di disaccoppiamento e di filtro ma c'è anche un altro elemento molto importante che in un mondo multicloud ibrido che è quello ormai verso il quale si sta andando è possibile che ci siano delle transizioni quindi che inizialmente un dato passi dal on-premise a un cloud provider poi magari per motivi commerciali faccio un accordo più conveniente con un altro cloud provider quindi il dato lo risposto nuovamente da un cloud all'altro se questi spostamenti avessero impatto diretto sugli utilizzatori del dato sarebbe un disastro perché vorrebbe dire che io dovrei fermare ogni volta i sistemi solo per questioni tecniche ancora una volta se c'è un livello di separazione che è quello della data virtualization questo livello è in grado di assorbire tutti questi movimenti tecnici perché verso l'utilizzatore il dato viene sempre rappresentato in un unito modo grazie grazie a te è un tema che probabilmente resterà al centro anche delle prossime discussioni soprattutto considerando quanto il cloud stia diventando un elemento chiave nell'evoluzione dei servizi bancari e nella riconfigurazione delle architetture IT delle banche italiane io vi ringrazio nuovamente per il vostro speech che Grazie a tutti.